John Hart Salve, come state? Come procede il volo? Io sono il vostro assistente volo John Hart. Benvenuti e buon viaggio. State comodi? Bene, adesso vi mostro alcune regole di sicurezza che sono scritte qui sopra. Dunque, allacciare cinture di sicurezza e di emergenza. I bagagli devono essere stivati correttamente. I braccioli devono essere abbassati completamente. Se ha qualche bagaglio fuori posto, posso aiutarla io? Sì, dia pure a me questa borsa. Che la sistemo io per bene. Ecco. Qui sopra la mettiamo. Ecco fatto. Molto bene. Dunque, in questo foglietto stanno scritte altre informazioni di sicurezza che le voglio leggere. Al fine di agevolare i controlli presso i barchi di sicurezza dell'aeroporto, è obbligatorio presentare la carta d'imbarco. Uno. Due. Riporre giacca e soprabbito nell'apposito contentore della macchina radioscopica. Tre. Presentare agli addetti ai controlli di sicurezza il sacchetto contenente tutti i liquidi trasportati nel bagaglio a mano. Quattro. Quattro. Estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione, al fine di consentirne l'ispezione separatamente rispetto al bagaglio a mano. Le aggiungo un'ultima informazione. In aggiunta a detto bagaglio è permesso il trasporto in cabina di una borsetta o borsa portadocumenti, personal computer portatile, un apparecchio fotografico, videocamera, lettore cd, dvd e apparati simili, telefono cellulare, un soprabbito, un ombrello, stampelle o altro ausilio per la deambulazione, articoli da lettura per il viaggio, con la portatile, passeggino, articoli acquistati presso gli esercizi commerciali, siti dopo i controlli di sicurezza. Perfetto, queste sono le informazioni che le volevo leggere. Mi dica, gradisci qualcosa da bere o da mangiare? Ok, torno subito. Eccomi qui. Bene. Dunque, allora, le mostro che cosa abbiamo da offrire. Questa è una bottigliela di acqua naturale. Ecco lei. Questi sono appositi bicchieri di plastica. Dentro questa bustina ne contiene due. Ecco, prenda pure. Poi abbiamo delle posate, questo piccolo set di posate che sicuramente li potrà tornare utile. Prego. Questo è un po' di succo di frutta da bere. La cannuccia sta nel suo retro. Ecco. Poi abbiamo questi piattini di plastica con un fazzoletto al suo interno. Ecco. Ecco, prenda pure. Questa è un pochino di cioccolata. Te le piace? Può scegliere il gusto al latte oppure fondente. Cosa preferisce? Al latte. Benissimo, è esattamente questo. E' anche il mio preferito. Prego. Abbiamo questo pacchettino di salatini. Anzi, due, se preferisce. Benissimo. Ecco lei. Ok. Questi sono degli stuzzicadenti. Nel caso le servissero. Prenda pure. Ecco. Questo è un poco di zucchero. Se ne ha bisogno. Da qui dentro. Ecco. Ecco. Benissimo. Adesso le leggo tutti i servizi che noi offriamo per il maggior comfort del passeggero. Allora, puoi scegliere tra i vari pacchetti. Dunque, il primo riguarda massaggio passeggeri. Il secondo, invece, è la music therapy. E il terzo è set per relax. Mi dica quale preferisce dentro. Ok. Allora, desidera massaggio per passeggeri e set relax. Cosa vuole fare per primo? Ok. Il set per relax. Attendo un momento. Grazie. Bene. Adesso le mostro il set per il rilassamento. Questo cuscino molto molto rilassante. Le servirà. Le servirà. Da mettere qui dietro al collo. Come sto facendo io. Guardi. Così. Prego. Lo tosti pure. Bene. Bene. Poi abbiamo questo panno che io le metterò sulla sua faccia per asciugarla e per farla rilassare, chiaramente. perché utilizzerò qualche crema per il massaggio. E' davvero molto soffice e piacevole. E' fatta appositamente per questo trattamento. Questo è un piccolissimo lipstick che applicherò sul suo corpo e mi servirà per fare determinate manovre. Sempre per il massaggio. E le avverlo che ha anche un profumo molto piacevole. Bellissimo. Davvero. Davvero bellissimo. Ovviamente se gradisce può scegliere riguardo le sue orecchie se indossare queste piccole cuffiette in cui potrà ascoltare della musica rilassante oppure in alternativa questo piccolo contenitore contiene delle semplici cuffiette. Ovvero tappi per le orecchie che le aiuteranno a concentrarsi di più sul massaggio. e per ultimo il set comprende questo cuscino davvero molto morbido che ha doppia funzione. come una per appoggiare una per appoggiarci il viso e un'altra anche altre parti del corpo. O semplicemente se gradisce non può affondarci le mani e utilizzarlo come una sorta di anti stress. come gradisce ovviamente. Mi dica la mia. Bene. Vuoi procedere con un massaggio? Perfetto. Allora possiamo iniziare. benissimo. Allora adesso le metterò questa mascherina sugli occhi. Lei chiude gli occhi e si rilassi completamente. A tutto il resto ci penserò io. Possiamo iniziare. Benissimo, ecco. Ok, si rilassi, si rilassi completamente. Appoggi bene la testa qui, sì, esattamente così. Ecco, prenda questo cuscino, si appoggi la testa con calma. Ok. Ok, prendiamo questo prodotto che le dicevo prima. Questa è una crema che le metterò sul volto. Si rilassi completamente. Adesso apra gli occhi. Le ho messo un visore di immagini rilassanti. Ecco, così va bene. Alzi il suo braccio destro. Molto, molto bene. Le dà fastidio per caso, così? No? No? Allora continuo. Ok. Mi dia adesso il suo braccio sinistro. Ecco. Così. Sì. 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 Rimanga. Immobile. Sì. 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 Adesso passiamo al suo lato sinistro e destro del volto. ecco. Ecco. Le piace così? Sì. 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 Lei in questo momento è in completo relax. Immagini di essere già nella meta prescelta. Si trova nell'hotel che ha scelto. si distende sul letto morbido, confontevole. Chiudi i suoi occhi. Respiri. e inizia a inspirare e espirare. I suoi muscoli si iniziano a rilassare. inizia a pensare a tantissime cose piacevoli, rilassanti, a tutte le cose belle che ha fatto nella vita. Lei sta bene con il corpo e con la mente. È in uno stato di totale pace, di sincronia con il suo corpo e la sua mente. bene. Benissimo. Sì. Si sta rilassando. Sì. È esattamente quello che prevede. È esattamente quello che prevede. di questo trattamento. Il massaggio come sta andato. Mi fa davvero molto piacere che è di suo gradimento e che le stia rendendo il volo migliore. continui a rilassarsi. Sì. Sì. Così. Esattamente. Giri un pochino la testa a sinistra. Esattamente così. Ecco. Giri un pochino la testa a sinistra. Adesso da giri alla sua destra leggermente e molto, molto lentamente. Sì. Utilizziamo un altro poco di crema. Sì. 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 Il cuscino va bene in questa posizione. In questa... Ok. Sì. 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 Adesso utilizziamo quel lipstick che le dicevo prima. Decima. Senta che bel odore che ha. Sì. Sì. Ve le dico alcuni ingredienti. Propolis. Cera. Per collective. Mirra, alcune essenze di erbe varie, ecco qui, bene. Si rilassi, si rilassi, eccoci qui. Allora, com'è stato il passaggio e il trattamento che ho ricevuto? È stato di suo gradimento? Benissimo, ci fa molto piacere questo. Di solito è tra i preferiti dei passeggeri questo passaggio. Adesso abbiamo un kit per lei che le mostro. Eccolo qui. Le faccio vedere che cosa contiene perché ci sono cose che possono essere utili per il suo benessere. Allora, qui abbiamo alcuni cerotti in caso di emergenza. E questa invece è una garza. Questo è un tubetto di crema per il viso. Molto utile soprattutto per le pelle secche. Poi in questa bustina abbiamo alcuni cotton fioca che può utilizzare per la sua igiene personale. e adesso ora dimostro come si utilizza. E poi qui abbiamo alcuni dischetti. sempre per il viso. Sempre per il viso. Questa. Questa. a presto Grazie a tutti. Bene, questo è per lei e lo può benissimo utilizzare per il suo benessere. Prego. Durante l'attesa del viaggio puoi vedere la mappa del luogo da lei scelto. Ecco lei. Ok, oppure abbiamo una rivista che può leggere con delle pagine molto profumate. Ok, allora in alternativa abbiamo alcuni libri che può leggere gratuitamente. Per la lettura sono molto piacevoli perché hanno tematiche rilassanti fatte appositamente per i passeggeri. Ok, ecco, prende a porre questo. Nel caso ha bisogno di utilizzare internet, non si preoccupi, non serve il cellulare. Quello potrebbe riportare spento. Ma noi abbiamo questo servizio che offre il nostro pacchetto, ovvero in questo scatolo. Noi abbiamo questo mini computer in cui può interagire o vedere film, documentari molto rilassanti ovviamente. o qualsiasi cosa che le desidera. D'accordo, grazie per aver scelto noi. Perfetto. Per qualsiasi cosa basta chiedere. Le auguriamo un buon viaggio e buon rilassamento. Grazie. Grazie.